Presentatevi Andrea Cognome Zordano Per che squadra correde? In colpa Zordano Desiree Fiore E l'anno prossimo? Passerò professionista Passerò professionista Andrò in giocato in Venezuela Cosa avete in comune? Andiamo a piano in gioco L'orecchino Cosa avete di diverso invece? Sono simpatico Il peso Credo anche un figlio Uno dei due Chi ha vinto di più tra voi due quest'anno? Io Quante volte hai fatto secondo Villella? Sei Dietro a chi? Siete rivali tutto l'anno Com'è adesso trovarvi in nazionale? L'unione sarà la nostra carta vincente per domani Ma adesso siamo amici Sì è vero Sicuramente siamo amici E quando ora domenica corriamo contro E' una domenica nazionale Sicuramente per l'Italia Possiamo vincere? Ci sono buone probabilità Bisogna E se vince uno di voi due Che reazione avete? Spero che non vi aggara bene Io Sato a tosse lo faccio Sì 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 Sì